Qual è la partita della partita? In quella partita, al cavallo di quelle due partite, io ho perso un giocatore e ne ho messo dentro una data e quindi ho cambiato 1 su 11. Questa settimana ne ho dovuti cambiare 3 su 11 e dopo pochi minuti sono rimasto con il quarto, un giocatore come era Scaroli. Per cui cambi 4 undicesimi rispetto alla partita precedente, è chiaro che il piano della manovra dovrebbe essere un po' più veloce a mio avviso e quando loro avevano la palla dovevamo pensare in modo più coordinato. Però quando cambi tante persone all'improvviso si può sbagliare in questo, però si sopperisce quando hai un gruppo, quando hai una squadra, quando hai una filosofia. Allora puoi sopperire a delle mancanze e ci siamo usciti. Il Fiasio l'ho visto 15 giorni prima con il Foligno, un DVD. 0-0 e il Fiasio l'ho potuta vincere la partita. Con il Fiasio, ripeto, devi metterle palle col tre cose, poi è diventato tutto un po' più facile, è chiaro, però è così. Poi è sembrata una partita quasi a carattere amatoriale, però noi abbiamo avuto un gran palleggio, non abbiamo avuto l'ultima fase. Cioè stiamo facendo un percorso, in questo percorso si cresce certe volte, si torna indietro e fa parte del progetto. L'importante è mantenere una filosofia, un'idea di gioco e combattere i sogni di pallone. Sì, ma è la filosofia che è cambiata, perché io non credo, io ho conosciuto chi ha lavorato qua prima di me, no? E quindi so i suoi metodi e i suoi mezzi. Chiaramente noi, con il nuovo preparatore tradico, collaboriamo con quello che c'era, quindi dal passato al presente, non c'è stata una frattura. Cioè esiste una continuità e se hai lavorato bene anche prima, prima era la mentalità che era sbagliata. Quando io, ve l'ho detto il primo giorno, quando un compagno aveva la palla erano tutti fermi, tutti. Nessuno si muoveva più di 5 metri, invece bisogna correre senza palla, attaccare gli spazi, fare corsi anche di 20, 30 metri, senza palla, per giocare a calcio. Altrimenti non la può fare un giocatore, non la può fare in 4, in 5. Fanno anche gli allenamenti, i comportamenti, gli atteggiamenti dei calciatori. Che durante la settimana determinano chi gioca e non gioca. Io non do fiducia a prescindere da un calciatore, altrimenti ne perdo 10. Se loro si allenano e diventano convincenti, io poi gli posso dare anche la maglia di violare. E poi è chiaro che si dovevano guadagnare il posto. Partita per partita, prestazione dopo prestazione. Il DM sta crescendo, ma non sta crescendo tecnicamente, tatticamente, fisicamente, sta crescendo come uomo, come ragazzo. Se lui ha le idee chiare su quello che vuole fare da grande e ce lo fa capire, secondo me ancora vediamo poco di DM. Può fare ancora di più. Quindi onestamente da allenatore non è che sono contento. Perché un allenatore che non allenatore dovrebbe tirare fuori il meglio di ogni giocatore. E secondo me da DM ce la tirare fuori ancora molto. Io proprio ho detto, io su Martina in CDM non credo che siano attaccanti esterni. Appunto. Siano attaccanti centrali. Quindi ha giocato attaccanti esterni, però ha sempre giocato qui attaccanti esterni. E secondo me questo cambia... Se stanno lontano dalla porta tutti e due, secondo me non sono molto pericolosi. Loro sono pericolosi quando stanno vicino alla porta. Dopo un monte di ruolo, è cambiato qualcosa e l'atteggiamento è diverso. Ha preso una contusione forte qua, sull'anca, sulla testa proprio di un muscolo obicuo. E onestamente dobbiamo valutare poi martedì, con lo staff medico. Valutiamo la martedì, ma è lo staff medico come verrà aggiornato. Per domenica manca anche Dierna e Bricca squalificati. Mencarelli, Rubecchini e Dromela vengono da infortuni che se lo staff me li rimette in piedi sicuramente non stanno mai bene. È un momento molto difficile. O tiriamo fuori il carattere e ci stringiamo, esce da fuori un gruppo vero, altrimenti si non ha contato difficoltà. Al di là del Fulino, a me del Fulino, a Trestina, non mi interessa. Per me gli avversari sono avversari. Non esistono né le categorie né le qualità. Per me tutti gli avversari sono affrontati del grande impegno e delle dimensioni. Tu oggi perdi, che il Fulino vince. Io vorrei un giorno conoscere una partita semplice. A parte non mi divertirei più io, ma io ne vorrei vedere una partita semplice. Io non l'ho mai fatto. L'importante è che, ripeto, non perdiamo d'occhio quella che è la filosofia di un gioco, di una corsa, di un gruppo. Se rimaniamo vicini a questa filosofia, a mio avviso, si può sopprire la mancanza di tanti giocatori. Grazie.